Alle prossime amministrative di Scicli dobbiamo esserci con l'obiettivo di far vincere un nostro candidato. Lo afferma il leader del Movimento dei Forconi, Mariano Ferro, secondo cui vincere significherebbe scompaginare il gioco e gli interessi poco chiari di cui vuole mettere le mani sulla città che Montalbana ha reso metaturistica mondiale e che ricopre un ruolo di primo piano nell'agricoltura del Ragusano. Proporremo quindi una persona seria e onesta, prosegue Ferro, che sia in grado cioè di guidare Scicli verso la trasparenza e la sua crescita e che la tenga lontana dagli affari loschi che potrebbero solo farla tornare indietro. Ovviamente chiederemo all'Unione pubblica di sostenere una proposta che deve essere costruita con consenso popolare e capire cosa vuol fare della città. Crediamo quindi, sottolinea il leader dei Forconi, che questi signori devono smetterla di giocare con la vita dei siciliani e gradiremmo se cominciassero a capire che forse è l'ora di farsi da parte, ma nelle democrazie tocca i cittadini. A questa sfida, conclude Ferro, vogliamo partecipare. Nei prossimi giorni, quindi chiariremo la nostra posizione e presenteremo la nostra idea. Grazie. 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 Grazie.